anzitutto assicurarsi che il cartone si pieghi e faccia questa piega da un centimetro quindi piegare così prima questo lato e poi quest'altro facendo in questo modo dopodiché lo si mette così si prende la mezza o la più grande e la si mette qua poi si prende quella più piccola e la si mette in quest'altro spazio dopodiché si piega il tutto e si fa in modo si fa in modo che questi entrano entrino nella propria serie 1 2 e 3 ok fatto questo si inizia dal più piccolo in questo modo si alzano le tre si inizia dal dal più grande o giusto male si inizia da più grande uno si butta avanti e si chiude poi questa menzola si butta avanti si chiude entra dentro si butta avanti e si è il corpo di mezzo poi c'è quest'altro qua che vi viene recapitato in questo modo dopodiché lo aprite lo mettete qua vi assicurate che i quattro angoli qui all'estremità vengano pressati in modo tale da creare questa situazione all'interno vedete poi si piega questo alla buona perché chi lo terrà fermo sarà questo pezzo e lo si mette con il lato verde dove c'è il luogo lo si spinge e va a finire sui quattro angoli dopodiché si vede questo questa questa fessina questa fessina e quest'altra deve capitare proprio dove ci sono queste linguette uno e uno per quanto riguarda il cappello invece allora si va a finire